Ciao a tutti, come vi avevo promesso nell'altro video, dove vi ho fatto vedere i gel della Cristian Nels che cambiano colore, questo è l'effetto che fanno quando le mani sono molto calde, le dita sono molto calde, vedete? Il colore è proprio un bel rosso fuoco. Mi dispiace che vedete questa ricrescita, ma presto le smonterò. Volevo farvelo vedere anche in questa versione, perché ritengo che sia un bellissimo colore. Se questo video vi è piaciuto, votatelo. Ciao a tutti!